Via libera ai tamponi obbligatori per chi arriva in Sardegna. Il pronunciamento favorevole del Consiglio di Stato è stato salutato con soddisfazione dal Presidente della Regione. Spirano venti di crisi in maggioranza ad Alghero. I consiglieri di minoranza hanno chiesto al Sindaco Mario Conoci di prendere atto della crisi palese e di rassegnare le dimissioni. Tempi lunghi per i lavori sul ponte all'ingresso di Carbonia. Il senso unico alternato regolato da un semaforo provoca lunghe file. Sarebbe auspicabile un'accelerazione dei tempi di esecuzione. Unicredit sostiene l'associazione Casa e Maus di Iglesias. L'istituto di credito ha concesso un finanziamento ad impatto sociale per 150 mila euro con garanzia FCG al 90% nell'ambito del decreto liquidità del Governo. Ben ritrovati su Canale 40. Oggi giovedì 11 marzo 2021 il Consiglio di Stato ha dato il via libera ai tamponi obbligatori per chi arriva in Sardegna. Il Presidente della Regione ha espresso grande soddisfazione per il risultato raggiunto. Sentiamo Gianpaolo Cirronis. Il diritto alla salute dei sardi deve essere tutelato con ogni mezzo e la Regione ha agito in questa direzione, sempre nel rispetto delle leggi, fin dai primi giorni della diffusione del virus. Oggi viene riconosciuta la piena legittimità delle nostre scelte e questo ci spinge a proseguire sereni su una strada che sta già dando ottimi risultati e che con l'accelerazione delle vaccinazioni ci consentirà di raggiungere l'obiettivo di portare la Sardegna, quanto prima, fuori da un'emergenza sanitaria ed economica senza precedenti. Il Presidente della Regione Sardegna, Cristian Solinas, ha commentato così il decreto del Presidente della terza sezione del Consiglio di Stato che, rigettando il ricorso presentato da un legale caglianitano già respinto dal Tar Sardegna, ha confermato la piena legittimità della scelta della Regione di imporre l'obbligo di sottoporsi al tampone per chi arriva nell'isola. È pienamente legittima dunque l'ordinanza numero 5 emessa dal Presidente Cristian Solinas il 5 marzo scorso. Nell'estate 2020, ha aggiunto il Presidente Solinas, i sardi hanno pagato il prezzo altissimo di un contagio di importazione e di ritorno, proprio a causa dei mancati controlli agli arrivi, da noi richiesti e bocciati dal Governo precedente. I cittadini hanno affrontato grandi sacrifici tenendo comportamenti virtuosi per tornare a livelli contenuti e raggiungere, prima Regione in tutta Italia, la zona bianca. Ora siamo sulla strada giusta. La campagna sardi e sicuri che ha ottenuto ottimi risultati, oltre ad aver dato a tutti consapevolezza dell'importanza dello screening per il contrasto al Covid e l'abbassamento della curva epidemiologica, sta contribuendo a tenere ulteriormente sotto controllo la diffusione del virus. Ma tutto questo non basterebbe se non andassimo avanti seguendo il percorso già intrapreso, per arrivare il prima possibile a quella normalità che tutte le famiglie e le imprese sarde aspettano da tempo. Questa nuova autorevole conferma della legittimità delle nostre strategie ha concluso il Presidente Cristian Solinas e un motivo di grande soddisfazione che ci spinge a moltiplicare le attenzioni per dare ai sardi e ai turisti sicurezza e garanzie in più. Il progetto Sardi e Sicuri, promosso dalla Regione e realizzato da Ares ATS, prosegue sabato 13 e domenica 14 marzo sul territorio dell'area vasta e parte del sud Sardegna. Dopo la tappa nella città di Cagliari, la più grande operazione di screening anti-Covid mai realizzata nell'isola si sposta su altri 19 comuni, Selargius, Sestu, Monserrato, Quartuccio, Settimo San Pietro, Senorbi, Monastir, Ussana, Guasila, Nuraminis, Samazai, Selegas, San Basilio, Pimentel, Sant'Andrea, Frius, Barrali, Suelli, Guamaggiore e Ortacesus. La formula sarà quella adottata nel medio Campidano e a Cagliari. A condurre lo screening saranno circa 700 operatori tra medici, infermieri e tecnici informatici, a cui si aggiungono numerosi volontari che opereranno in 29 sedi attrezzate per un totale di 74 postazioni per l'esecuzione dei tamponi antigenici rino-faringei. Senza il supporto dei medici di base non sarà possibile vaccinare tutti i Sardi secondo le scadenze annunciate da Presidente e Assessore alla Sanità. Francesco Agus, capogruppo di progressisti in Consiglio regionale, sottolinea l'importanza della chiusura dell'accordo tra la Regione e FMMG nel più breve tempo possibile perché solo con il coinvolgimento dei medici di famiglia la campagna vaccinale in Sardegna sarà pienamente operativa. Secondo i progressisti non si può perdere altro tempo. Il rischio è quello di gettare al vento i risultati raggiunti in termini di diffusione del virus grazie all'impegno delle cittadine e dei cittadini sardi. Non ci si può sedere sui dati che restano ancora incoraggianti. Serve mettere in campo tutte le soluzioni possibili per velocizzare la somministrazione delle dosi che abbiamo a disposizione. Andiamo avanti. I presidenti delle associazioni Asnet-APS, Prometeo-ITF-ODV ed Elisa Dejana-ODV ed il segretario regionale del Comitato ANED Sardegna, Bruno De Notti, Giuseppe Giolas, Alberto Dejana ed Annibale Zucca hanno inviato una lettera all'assessorato regionale della sanità e all'ATS nella quale chiedono un incontro per valutare l'attuabilità delle loro richieste relative alla vaccinazione anti-SARS-CoV-2, Covid-19, dei trappiantati di organo solido, delle persone in attesa di trappianto e dei dializzati. Propongono inoltre alla regione di realizzare con le loro associazioni e l'ANCI Sardegna una campagna di sensibilizzazione sul servizio di registrazione delle dichiarazioni di volontà presso le anagrafi comunali. Diamo il consueto sguardo ai dati regionali sul Covid-19. Sono 65 i nuovi casi di positività al coronavirus accertati nelle ultime 24 ore nell'isola su 2.497 test eseguiti. Il rapporto tra casi positivi e tamponi eseguiti segna per l'isola un tasso del 2,6%. Si registrano due nuovi decessi. Sono 171 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi, meno 14 rispetto a martedì e 25 più 1 i pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 12.484. La crisi si è finalmente palesata in Aula, con OCI praticamente sfiduciato in Aula dai suoi gruppi più numerosi. L'abbandono dei lavori consigliari da parte di tre consiglieri di Forza Italia e di due consiglieri del gruppo misto riteniamo debba far aprire gli occhi anche a lui, non ha più i numeri per governare. A dirlo sono i consiglieri di opposizione al comune di Alghero. Una seduta convocata solo per un termine di legge, la surroga delle consigliere Alivesi e Di Maio ha ripristinato i lavori consigliari sospesi da 50 giorni, ma nessun tema all'ordine del giorno è stato posto dall'ex maggioranza, solo mozioni e interrogazioni dell'opposizione. 21 mesi di vuoto amministrativo, tutto fermo, immobile, è bene che conosci prende atto della crisi palese e rassegni le dimissioni. Veniamo alla cronaca, oggi purtroppo dobbiamo ancora una volta darvi conto di atteggiamenti persecutori e molestie nei confronti di una donna. Sentiamo il servizio curato da Francesca Rius. Ieri a Gonnesa i carabinieri a seguito della denuncia presentata da una 41enne del posto hanno denunciato a piede libero per atti persecutori un 44enne residente iglesias disoccupato già conosciuto dalle forze dell'ordine. L'uomo dopo la separazione non si è rassegnato alla fine del proprio matrimonio, mettendo così in essere atteggiamenti persecutori reiterati nel tempo, molestando quotidianamente la propria ex con telefonate e messaggi anche dal tono minaccioso, provocando in lei un grave stato d'ansia e paura per la propria incolumità, oltre ad un intollerabile condizionamento della propria vita. Non si tratta purtroppo di un caso isolato, anche se è bene ricordarlo con le norme in vigore dal 2019, oggi è possibile ridurre i margini di rischio per le donne. In questo caso specifico è possibile che per l'uomo giunga presto un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima, un divieto di telefonarle e, in caso di inosservanza, l'uomo potrebbe finire prima i domiciliari e infine in carcere. Un diciotenne marocchino residente a Vallermosa è stato denunciato a piedi libero dai carabinieri della locale stazione per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane, a seguito di perquisizione personale domiciliare, è stato trovato in possesso di 36 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e debitamente custodito in attesa dell'analisi di laboratorio che verranno svolte presso l'Agenzia delle Dogane di Cagliari. Voltiamo pagina. I lavori in corso da alcune settimane per la sistemazione di un ponte sulla strada statale 126 sud-occidentale Sarda, situato all'ingresso di Carbonia, stanno creando grossi disagi alla viabilità. Il senso unico alternato provoca fortissimi rallentamenti. I lavori vanno avanti a rilento e i tempi si preannunciano molto lunghi. Il senso unico alternato regolato da semaforo già in partenza era previsto fino al 18 maggio e nella migliore delle ipotesi l'attuale situazione è destinata a protrarsi almeno per 70 giorni. Considerata l'importanza dell'arteria stradale per l'intero sulcis iglesiente, sarebbe auspicabile una revisione dei tempi con un'accelerazione dei lavori, perché l'attuale situazione determina gravissimi disagi in un territorio già alle prese con una miriade di problemi. Bentornati in studio. L'associazione Casa e Maus, impresa sociale di Iglesias, ha ricevuto da Unicredit un finanziamento ad impatto sociale per 150 mila euro. Si tratta del primo per l'istituto in Sardegna, con garanzia FCG al 90% nell'ambito del decreto liquidità del governo. L'operazione rientra nell'ambito del programma Unicredit Social Impact Banking ed in particolare nella campagna Il Valore delle Donne, lanciata a dicembre 2020 a sostegno dell'imprenditorialità femminile e di tutte quelle iniziative che promuovono servizi assistenziali a favore delle donne e delle loro famiglie, con il chiaro intento di generare impatto sociale positivo e misurabile. Nel dettaglio il progetto sostenuto dalla Unicredit Social Impact Banking è finalizzato a sostegno di investimenti per il miglioramento delle strutture di accoglienza per persone a rischio di marginalità sociale con un incremento di circa 80 nuovi posti letto, alleggerendo così nuove famiglie dai carichi di cura per gli adeguamenti necessari a rendere le strutture covid free e per digitalizzare i sistemi gestionali e amministrativi. Un'opera che ritrae il logo dell'Università di Cagliari, tessuto su una tela di lino con inserti di setta blu è l'immagine della Vergine realizzata in bisso secolare. A donarla in occasione di 400 anni dell'Ateneo Cagliaritano la tessitrice di Sant'Antioco Chiara Vigo. Nella mia opera che riproduce lo stemma dell'Ateneo la Madonnina è realizzata con il bisso centenario come la nostra Università ha spiegato Chiara Vigo. Il blu è una setta naturale colorata con la bacca del mirto attraverso una seccatura bagnata chiusa con il succo di melograno. E quest'ultimo ha una colorazione di origine ebraica. Nel Museo di Corinto è identificata un'isola dove le donne fanno il colore che potrebbe essere l'isola di Sant'Antioco. Andiamo avanti. Grande soddisfazione per l'acquisizione da parte del Parco Geo Minerario della collezione mineralogica Manunta. Ma non tutti i minerali troveranno posto nel Museo del Minerario ad Iglesias. I propositi del presidente Tarcisio Agus e del Consiglio Direttivo del Parco Geo Minerario Storico e Ambientale della Sardegna sulla base della relazione tecnico-scientifica e dell'istituto minerario di Iglesias per l'allestimento ed esposizione dell'ormai famosa collezione Manunta, la preziosa raccolta di minerali formata da oltre 4.600 pezzi, alcuni dei quali anche molto preziosi da un punto di vista economico. Il Via Libre è arrivato venerdì scorso con la delibera del Consiglio Direttivo del Parco Geo Minerario Storico e Ambientale della Sardegna sulla base della relazione tecnico-scientifica di congruità e la certificazione di tutela del Ministero dei Beni Culturali per la sua acquisizione al patrimonio del Parco al costo di 573 mila euro. Un successo costruito nel tempo, scrive l'Associazione Mineraria Sarda, anche grazie alle tante associazioni attive nella difesa e valorizzazione del patrimonio minerario isolano, anche nell'ottica di uno sviluppo sostenibile e dell'economia circolare. Ma non tutti i pezzi si troveranno posto nelle esposizioni del Museo Nazionale di Mineralogia Iglesiente, per ovvie ragioni di spazio. Questo aspetto ha fatto preoccupare gli appassionati della materia. Per questo abbiamo chiesto al Presidente del Parco Geo Minerario, Tarcisio Agus, di spiegare quali azioni si intende intraprendere per migliorare la valorizzazione e fruizione della preziosa collezione di minerali, straordinaria testimonianza della cultura mineraria sarda. Questi 4.600 euro di pezzi diciamo che è una grande quantità di pezzi di minerali particolarmente interessanti e molti hanno un grande valore anche di natura economica oltre che di bellezza. Chiaro è che in un museo, per quanto possa essere il museo principale, come tutti i musei, e tenuto conto che oggi i musei minerali sono dei veri e proprie vetrine di pregiate, quindi di monili pregiati, come se fosse una grande gioielleria, non è che si possono esporre 4.600 pezzi, sarebbe impossibile. Quindi il Consiglio di Amministrazione ha anche valutato la possibilità che con quei pezzi si possono fare attività di natura culturale, quindi non tenerli nel cavo, quelli che non vengono esposti, perché se vuoi darle visibilità e luce, ogni pezzo ha un suo spazio necessario. Il Consiglio di Amministrazione, considerato che stiamo predisponendo un programma pluriennale per la realizzazione delle foresterie del parco, laddove ci sono attività già in essere di fruizione mineraria, l'idea è quella di realizzare i centri visita o le foresterie del parco e in ognuna di queste magari riportare alcuni pezzi della collezione amministrazione. Faccio l'esempio, stiamo predisponendo per l'Ula, alcuni pezzi di l'Ula potrebbero essere esposti nei luoghi di provenienza. Chiaro è che nel museo nazionale, chiamiamolo così, sono esposti tutti i pezzi di tutte le miniere della Sardegna e saranno esposti quelli più significativi, mentre il resto appunto creerà piccole collezioni nei siti di provenienza, così pure come alcuni pezzi pensiamo di utilizzarli per promuovere il parco anche in mostre internazionali, nazionali e internazionali. I vigili del fuoco sotto la supervisione della Capitaneria hanno svolto un'attività di addestramento congiunto tra gli operatori e la squadra sommozzatori del distaccamento di Alghero presso il porto. L'obiettivo è quello di migliorare la collaborazione sempre più solida in virtù della convenzione stipulata a livello nazionale tra guardia costiera e vigili del fuoco, tesa ad offrire un sempre miglior servizio al cittadino, dato anche l'avvicinarsi della stagione estiva. Si è testata attrezzatura di nuova assegnazione per l'estinzione di incendi che possono interessare imbarcazioni e natanti. Il nucleo sommozzatori ha garantito la sicurezza delle operazioni svolte in acqua, mentre gli operatori dei vigili del fuoco si sono intervallati nelle azioni di spegnimento provando le varie gittate delle lance schiuma impegnate nella simulazione e nel contempo si è testato e migliorato la sinergia tra le due componenti dei vigili del fuoco. Durante l'addestramento è stato impiegato e testato un nuovo e particolare agente schiumogeno di tipo biodegradabile. Ci spostiamo ad Oristano al Via ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade bianche. Vediamo insieme il servizio. Via Libera ad Oristano ai lavori di manutenzione straordinaria delle strade bianche. La giunta comunale guidata dal sindaco Andrea Luzzu ha avviato così il progetto da 125 mila euro che sarà realizzato dall'impresa Coeba di Oristano che ha offerto un ribasso del 33,33% sul prezzo a base d'asta di 9 mila euro. Le forti piogge dei mesi scorsi hanno messo a dura prova la percorribilità delle strade bianche della città delle frazioni, hanno dichiarato il primo cittadino e l'assessore dei lavori pubblici Francesco Pinna. La rete delle strade bianche necessita di urgenti lavori di manutenzione che ne garantiscano dunque la percorribilità. L'intervento ha l'obiettivo di migliorare la viabilità con un basso impatto ambientale, migliorando nella percorribilità a favore dei residenti e degli imprenditori agricoli delle aziende interessate, riducendo notevolmente i tempi di percorrenza e migliorando i trasferimenti. Con le risorse stanziate si interverrà per risolvere le situazioni più urgenti in funzione della sicurezza e della percorribilità stradale dei volumi di traffico, cercando di risolvere le peggiori criticità con interventi puntuali, al fine di garantire la migliore percorribilità della maggior parte delle strade in esame, hanno concluso Andrea Luzzo e Francesco Pinna. Fino a questo momento ogni intervento è stato impedito dalle piogge. La Giunta Luzzo sta dedicando grande attenzione a questo problema e la struttura tecnica è pronta ad intervenire con velocità, sperando che le condizioni meteo nelle prossime settimane consentano la rapida esecuzione degli interventi di ripristino. Nuovo record per il pecorino etico solidale, le vendite sono cresciute del 31%, Gianpaolo Cironis. È del 31% l'aumento delle vendite del pecorino etico solidale che festeggia i 4 anni di vita. È quanto emerge dai dati diffusi dal caseificio Biraghi e da Coldiretti Sardegna. Il trend è positivo per tutta la filiera, ha commentato il presidente di Coldiretti Sardegna, Battista Qualbu. Dopo 4 anni l'accordo, che non a caso avevamo definito storico, si rivela sempre più vincente. È come esempio da seguire non solo in questo settore agricolo. I benefici per i pastori e le cooperative che stanno collaborando al progetto sono evidenti. Prezzo minimo garantito, stabilità e programmazione. La differenza tra i primi due anni fu del più 29,1%, tra il secondo e il terzo del più 16,2%, mentre come scritto tra il terzo e il quarto anno la differenza è stata addirittura del più 30,9%, passando da 115.000 kg a 150.000 kg di formaggio grattugiato, 70% pecorino, 30% vaccino Biraghi, venduto negli scaffali degli iper e supermercati di tutta Italia. Anche nel mese scorso, a febbraio, il trend si è confermato positivo, segnando un più 36% rispetto allo stesso mese del 2020. Il record assoluto nell'anno appena chiuso si è tagliato a dicembre, sfiorando i 23.000 kg più 63,7% rispetto allo stesso mese del 2019 e più 49% rispetto al mese precedente. Mentre la differenza più alta dal mese precedente nel 2020 si è stabilita a settembre con più 94,2% rispetto ad agosto. La crescita più alta rispetto al mese dell'anno precedente si è aggiunta ad aprile con l'84,7%. Per la nostra cooperativa è stata una svolta che ha rafforzato tutto il lavoro che avevamo fatto precedentemente, ha dichiarato il presidente della cooperativa Pastori, Leonardo Salis. Da inizio annata abbiamo la certezza che una parte del nostro formaggio verrà venduta ad un prezzo già stabilito. Si è tenuta tre giorni fa la presenza dell'amministrazione comunale di Bugerru, delle funzionali della regione Sardegna e delle rappresentanti dell'ufficio UNESCO del Ministero una videoconferenza di presentazione della candidatura UNESCO. Obiettivo, spiega l'assessore Simona Spada, è il riconoscimento del patrimonio minerario del comune di Bugerru. Nel corso della videoconferenza sono emersi i punti di forza e le criticità di un percorso complesso che Bugerru vuole proseguire anche aprendosi ad un confronto con il territorio. Il prossimo incontro è fissato per i primi giorni di aprile. Sono partiti i lavori per l'assistemazione dell'accesso alla spiaggia di San Giovanni a Baunei. Gli interventi riguardano il riordino della discesa esistente con la pavimentazione in pietra a prolungare la passeggiata che già costeggia la spiaggia centrale ed arriva alla Torre Spagnola. In programma anche la realizzazione della rete di raccolta delle acque meteoriche, mentre sul lato mare verrà installato un parapetto in ferro battuto uguale a quello esistente nella discesa per la spiaggia centrale. L'obiettivo è quello di migliorare il collegamento fra le due spiagge urbane di Santa Maria Navarrese, la spiaggia centrale è quella di San Giovanni. Il comune di Fonni investe sull'innovazione e sulla ricerca. L'amministrazione comunale guidata dalla sindaca Daniela Falconi è risultata beneficiaria di un finanziamento dedicato alla sperimentazione di nuove tecnologie. Abbiamo costruito a Fonni, ha spiegato Daniela Falconi, un appalto innovativo e partecipato nel quale tante imprese, ricercatori, università provenienti dalla Sardegna e diverse parti d'Italia sono venute a dialogare con noi per capire quali sono le necessità del nostro Paese e perché no di un intero territorio. Questo genere di progetti innovativi a cui nessuno di noi era abituato prevedono proprio un'ampia consultazione preliminare per costruire la miglior gara possibile per i futuri partecipanti. L'obiettivo, che sarà portato avanti anche grazie alla collaborazione dei cittadini, sarà quello di abbattere i costi della nettezza urbana. Ripartono ad Orani gli studi sul Marchesato. Vediamo nel servizio che segue tutti i dettagli. Il Consiglio Comunale di Orani ha approvato e confermato l'accordo di programma Titulos-Terrebaroni, itinerario delle grandi sedi feudali della Sardegna, che ha come obiettivo la valorizzazione storica, culturale ed economica di tutti quei comuni che sono stati sede dei grandi stati feudali, in particolare quelli formati dal Ducato di Mandas, dai Marchesati Laconi, Orani e Villasor, le Contè di Sedilo e Cuglieri e dal Viscontado di San Luri. Un primo accordo era stato sottoscritto esattamente il 9 marzo 2001 dai sindaci dei comuni di Mandas, Villasor, Laconi, Orani, Cuglieri, Sedilo e San Luri. Ma il sindaco Antonio Fadda non si vuole fermare qui. Inoltre è intenzione dell'amministrazione riprendere gli studi storici sul Marchesato di Orani, sottolineano dal Comune. Sono state avviate interlocuzioni con l'università e con studiosi che in passato hanno studiato la storia del Marchesato di Orani, con l'obiettivo di analizzare la documentazione storica e di avviare un percorso di approfondimento scientifico che permetta di produrre pubblicazioni e contenuti che raccontino la storia del Marchesato da tramandare alle future generazioni. Proprio nei giorni scorsi è stata ricordata una ricorrenza storica. L'8 marzo 1617 a Madrid il re Filippo con diploma reale erigeva in Marchesato la villa di Orani e Don Diego de Silva i Portugal diventava il primo marchese di Orani. Riprendono anche nella città metropolitana di Cagliari e nella provincia del Sud Sardegna gli eventi completamente gratuiti dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le loro competenze economico-finanziarie. Il consueto appuntamento di Poste Italiane con l'educazione finanziaria, che in questa sessione si tiene oggi dalle 17.30 alle 18.10 in modalità webinar, coinvolgerà circa 100 clienti degli uffici postali di Cagliari Centro, Piazza del Carmine, Cagliari 9, Via Montesanto, Decimo Mannu e Domus Novas, Flumini di Quartus Sant'Elena, Isili, Nurri, Samassi e Serrenti. Ed ora chiudiamo con lo sport. Beffarda sconfitta per l'Arzachena sul campo del Giuliano nel recupero dell'ottava giornata di andata del Girone G del campionato di Serie D. In vantaggio di due gol dopo soli 14 minuti, la squadra di Raffaele Cerbone ha subito la rimonta ed il sorpasso del Giuliano tra il diciassettesimo ed il quarantaduesimo del secondo tempo. Il Giuliano con i tre punti sale a quota a 14 punti, sempre ultimo ma con quattro partite ancora da recuperare. L'Arzachena resta ferma invece all'undicesimo posto con 21 punti e tutte le partite giocate. Domenica il campionato osserverà un turno di riposo, ma sono in programma altre quattro partite di recupero. Cassino, Team Nuova Florida, Giuliano Latte Dolce, Latina Monterosi e Vissartena Muravera. Con questa notizia si chiude qui il nostro telegiornale odierno. Vi lascio come di consueto le previsioni del tempo per la giornata di domani e con Noasa in curso il nostro telegiornale in lingua sarda. Vi ricordo inoltre questa sera alle 21 l'appuntamento con a tutto campo il programma curato da Giancarlo Cancedda. Grazie per essere stati con noi e per l'ascolto. Io vi do appuntamento alle prossime edizioni del nostro TG40 e vi auguro un buon proseguimento. Arrivederci.